Che palle. Oggi sono proprio scazzato. Sa, andiamo a navigare un po' su internet. E vediamo cosa trovo di bello, in questo magico ed epico mondo. Si ci sono. Visto che non c'è quella svampita della mia ragazza, potrei andare su www.yourfantasyporn.org. Ora userò lo straffighissimo, comando vocale dei miei coconnes, strai e dellati. PC, apri google. E che cazzo, sto cavolo di comando vocale, funziona bene come quello della Kinect. E vabbè, non ho proprio voglia di dire mille volte lo stesso comando vocale. Sono costretto ad usare, questo motore di ricerca da Nabbo. Allora, andiamo sul sito che ho citato prima. Voglio proprio potenziare la mia bella e potentissima, alla barda divina. Ma come è possibile? Ci sono gli episodi della mia vita su internet. Sono, sul sito, dailymotion.com e invito tutti voi ad andarli a rivedere. Prossimamente, su questo rivale sfigato di YouTube, saranno caricati degli episodi speciali su Nerdlife. Su, che aspettate? Andate subito ad iscrivervi. Nella barrona sexamente lunga del vostro browser, scrivete il seguente indirizzo. Grazie per avermi ascoltato. E al prossimo video.